Ciao a tutti, come affrontare la sensazione di solitudine dopo una rottura? In questo video voglio spiegarti come puoi affrontare la sensazione di solitudine dopo una rottura. Molte persone si sentono sole dopo una rottura. Ecco, ti spiego cosa fare. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai scegliere diversi livelli di abbonamento, abbonamento live con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Adesso veniamo al tema, come affrontare la sensazione di solitudine dopo una rottura sentimentale affettiva. Allora, è molto importante renderti conto che spesso una rottura sentimentale affettiva può generare, diciamo, malesseri, può generare una sensazione di vuoto. Alcune persone si sentono quasi come se avessero un arto amputato, se gli fosse davvero stato amputato un arto. E' una sensazione normale, diciamo, che va accettata, ripetendo a te stessa dall'inizio, che questa sensazione scomparirà. E soprattutto basta non dare alimentazione, perché se tu alimenti la stessa sensazione, beh, vai a fortificarla. Purtroppo tutto quello che alimentiamo tende a fortificarsi, tende a crescere, tende a diventare sempre più forte. Noi dobbiamo imparare invece a renderlo più debole, dobbiamo imparare a indebolirlo. Questa è la cosa veramente importante, la cosa veramente fondamentale. Se tu non riesci ad indebolire una situazione, una sensazione, questa crescerà. E tu la fortifichi andandola a rimuginare, andando a pensarci sopra. Per aiutare, per rapidamente far passare il senso di solitudine, quello che devi fare è concentrarti su te stessa, non alimentare i pensieri dell'altra persona, e riconnetterti, diciamo, con il mondo, riconnetterti con le persone, riconnetterti con le persone che ti sono care. senti l'amore che hanno per te, approfondisci il tuo rapporto con le persone che ti sono vicine. Il tempo e l'energia che è dedicato alla tua relazione sentimentale non è stato tempo perso se ti ha portato un insegnamento. Questo è un punto fondamentale. Ma in questo modo, concentrandoti su te stessa, su te stesso, concentrandoti sulle cose che ti piacciono, concentrandoti sul tuo mondo, riuscirai a ottenere veramente dei risultati e imparerai molte cose. Perché non devi mai riempire questa sensazione di vuoto con emozioni negative? Perché tutto quello che è negativo poi inizia ad attecchire. Ci sono persone che addirittura utilizzano, come dire, diventano dipendenti, diciamo, per dimenticare chi dà alcol, chi dà altre situazioni. Questo è un qualcosa che ti paralizza nella tua ricostruzione. Devi concentrarti su te stessa e imparare a darti emozioni positive. Devi riempirti di emozioni positive, di cose che, di emozioni che ti consentiranno di stare molto meglio nella tua vita. Ad esempio, una cosa fondamentale che puoi fare è promuovere, diciamo, nuove emozioni, nuovi incontri, nuove fantasie, dedicando la tua attenzione ad altre situazioni, ad altre persone. Fare nuove conoscenze online e offline, è molto importante. Poi, secondo punto, ovviamente l'online è importante, ma ovviamente è importante l'offline. Quindi esci, sforzati di uscire, anche se magari ti senti fuori posto inizialmente, anche se ti senti come se ci fosse un velo che ti separa dagli altri, più esci, più uscirai, più ti concentrerai su te stessa, più proverai emozioni positive, che andranno a controbilanciare le emozioni negative che provi dopo una rottura. Andranno a produrti degli effetti, di fatto, molto positivi. Nutriti degli aspetti positivi, crea i tuoi momenti positivi, fai quello che ti soddisfa, ascolta te stessa, ascolta te stesso, ascolta i tuoi desideri, le tue passioni dimenticate vale a recuperare. Questa è un'altra cosa fondamentale, recupera tutte le tue passioni dimenticate. È molto importante questo. Questo è il momento di ascoltare te stessa, di essere egoista da un certo punto di vista, di avere un sano egoismo, di provare sensazioni che ti fanno vibrare, che ti danno di nuovo grandi emozioni. Questo è un altro punto veramente importante, un altro punto veramente fondamentale, perché riscoprire le proprie passioni è veramente qualcosa che dà moltissimo, che dà veramente tanto. E tu, soltanto tu, puoi farcela ad avere nuove sensazioni, ad avere nuove emozioni. Questo è un qualcosa che puoi fare, ci devi mettere energie, ci devi mettere forza, ma ce la puoi fare. Ed è veramente un qualcosa di importante. Sii orgogliosa di te stessa, metti orgoglio in quello che fai, e allora rivivrai i sentimenti positivi, ti ricollegherai con te stessa, riscoprirai te stessa, e coglierai nuove opportunità, l'opportunità di scoprire, in un'epoca di astronauti, scoprire cosa significa diventare entronauta, scoprire i tuoi punti di forza, i tuoi desideri, cose veramente personali. E imparerai a diventare la migliore versione di te stessa, o di te stesso, perché mutatis mutandis vale anche per gli uomini. E questa sensazione di solitudine diventerà veramente un lontano ricordo, di fronte a tutta la felicità che saprai portare nella tua vita. Dai valore a te stessa, sii gentile con te stessa, ama te stessa, sviluppa autostima, e sviluppa valore, scopri la tua forza, scopri il tuo valore. Ti meriti la felicità, e questa sensazione di solitudine sarà una sorta di trampolino di lancio, diciamo, che poi alla fine ti permetterà di costruire una vita più emotivamente più ricca, una vita emotivamente più felice, perché avrai fatto delle azioni. Ecco, agire è importante, perché l'azione inibisce la riflessione, e la riflessione, rimuginare, stare a pensare, è veramente deleterio in questa situazione, è veramente estremamente negativo. Quindi agisci, e vedrai che le cose cambieranno, e starai davvero molto molto meglio. Bene, per questo video è tutto, spero ti sia piaciuto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Taramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e video registrazioni seminari dal vivo, abbonamento master consulting, con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti.